Ben ritrovati all'appuntamento del venerdì con il patchwork emozionale. Siamo nella stagione forse più ricca di colori di tutto l'anno. Infatti partiamo dai toni dei gialli per andare i senape, i verdi, i verdi cambiano in continuazione, i rossi, i bordò, quei rossicci delle foglie che sono veramente una gioia per gli occhi e soprattutto tutto quello che ci offre la natura, quindi castagne, zucche, verdura. Ma a parte questo noi rimaniamo in quello che è il nostro patchwork emozionale. Ho pensato di proporvi una tovaglietta ma non con la zucca bensì con la mela. Un bel sottopiatto o tovaglietta come vorrete fare ma con dei toni rossi. Una bella mela rossa con la sua foglia che diventerà un sottopiatto o una tovaglietta a vostro piacere. Siete pronti? tirate fuori i vostri scatoloni pieni di stoffa e cominciamo a scegliere. Il progetto è questa mela che diventerà un sottopiatto. Prima di iniziare il mio lavoro mi preparo il mio spazio dove mi piace stare ed essere in connessione con me e con la mia creatività. Ognuno di noi può prepararsi il proprio spazio come meglio crede. Io ho utilizzato questo fiore, sono tutti oggetti che faccio io, quindi logicamente ognuno di voi può preparare in base a quello che più ama. Mi sono messa questa pietra che contiene del rame, quindi ha una particolarità. È una pietra di orgonite che come vedete si può portare anche al collo e praticamente è un riequilibratore dell'energia nostra, della nostra energia. Io me la sono messa qua così mi dà più energia, più equilibrio. Questo è il cartamodello che andremo a ritagliare in doppio sul tessuto. Si va a cucire tutto intorno e adesso vi faccio vedere come. Per non usare un solo tessuto mi sono divertita a creare un crazy. Pezzi di tessuto tagliati a caso, non ho nessun cartamodello sotto, quindi ho proprio tagliato in base a come mi piaceva, quindi preso il tessuto e tagliato. Vedete che sono pezzi abbastanza grandi, fate anche veloce. Ho cucito tutto insieme e poi ho ritagliato usando ovviamente il cartamodello. In questo modo mi sono permessa di creare come piaceva a me. Trovate i pezzi di tessuto, ovviamente io ho utilizzato il rosso perché mi piaceva questa idea della mela rossa, invece se amate più i colori giallo o comunque dei toni misti, fate come meglio credete. È una cosa veramente semplice e divertente. Vi deve emozionare la vostra scelta, vi deve piacere, vi deve dare entusiasmo. Quando cerco nella mia scatola dei tessuti, per me è una gioia. Io normalmente prendo le mie scatole, mi metto sul pavimento e comincio a tirare fuori. Le ho divise tutte per colore, vado a cercare nei toni del rosso per esempio quelle che mi piacciono. Fate così che veramente vi troverete in uno spazio tutto vostro, in uno spazio dove state bene, vi viene fuori quella gioia, quella bellezza, quell'energia, quella voglia di creare. Dopo aver tagliato a misura, ho inserito sotto il batting. Io ho usato un batting di cotone, è molto leggero anche perché non amo troppo spessore, poi questa è una tovaglietta. Mi sono ritagliata sempre anche qui facendo un patchwork, nel senso che ho unito due pezzi di tessuto insieme, che saranno il mio retro. Quindi li ho cuciti, adesso ho messo dritto contro dritto, lo lascio qua perché vado a preparare la foglia e il picciolo della mela. Questo è il picciolo della mela che io ho tagliato e rivoltato, come vedete è doppio, all'interno anche qui ho inserito il batting, ho cucito, lasciato aperto lo spazio finale e poi rivoltato. Ho usato due tipi di marrone, però anche qua è una vostra scelta. Come faccio? Questo lo vado a inserire qui in modo che quando vado a cucire, cucio anche il picciolo. Io lo metto così perché voglio che venga da questa parte, ma volendo potete metterlo così e viene dall'altra. Quindi questo sta un pochino a voi come vi piace mettere. Ho inserito, vedete, il picciolo della mela, vado a mettere il mio retro della mela, quindi dritto contro dritto, punto uno spillo in modo che sta fermo. Adesso vado a cucire tutto intorno e lascio aperto uno spazio qua in fondo per poter rigirare il tutto. Mi sono già preparata la foglia, vedete questo è il modello della foglia, verde perché ovviamente l'ho fatta verde, qui scegliete un po' il verde che vi piace, i due tessuti dritto contro dritto. Ho cucito tutto intorno e ho lasciato uno spazio per girare, penso di averlo lasciato, eccolo qua. Ho lasciato lo spazio per girare. Non ho cucito, ecco qua. Questo è il mio spazio che vado poi a girare la mia foglia. Adesso vado a cucire la mela. Una volta cucito tutto intorno, rifilo togliendo quello che è in più, quindi il batting che è in più e poi vado a rigirare il tutto. Prima di girare, di rigirare il tutto, fate dei taglietti soprattutto su questa parte in modo che si gira molto meglio e vi permette di avere una tovaglietta più piatta. Vedete, ho fatto dei piccoli taglietti in modo che il tessuto scorre. Ho rigirato tutto, ho aggiunto la fogliolina. Vedete che ho passato con la macchina da cucire creando la ramificazione, ma lo potete fare anche a mano, ricamando. Io ho fatto con la macchina. L'ho praticamente unita con piccoli punti nascosti e questa è la mia tovaglietta finita. Bellissima e come vedete questo rosso meraviglioso che dà gioia, che dà allegria, che dà bellezza. Ci ho messo più tempo a spiegarvela che a farla. Tutti alla macchina da cucire. Ciao, alla prossima settimana!